Gente di YouTube, salve! Oggi vi dobbiamo fare una confessione Allora, la confessione è questa Hanno rotto i coglioni tutti quelli che dicono che quando parliamo bene di qualcosa lo facciamo perché ci hanno pagato Quest'oggi, tanto per rimarcare questa cosa, faremo una cosa che facciamo continuamente senza prendere... Vabbè, lo sanno un sacco di sviluppatori là fuori che non si aspettavano che gli facessimo un gameplay Piuttosto che una review, piuttosto che altro, quindi non basta quello Sì, vabbè, loro lo sanno, ma non è che vanno in giro a dire Oh, quei due sui sette hanno parlato del mio gioco e non li ho pagati Dicono, quei due sui sette hanno parlato del mio gioco, basta Però non è che si mettono a dire Allora, a noi certi progetti interessano veramente, ci interessano tanto E uno degli esempi è, vabbè, che ne so, il PlayStation VR di Sony Ce l'ha mandato Sony VR, ok, io poi me lo so comprato per casa mia Con i miei soldi, non è che è venuto il PR di Sony a casa mia Signor Palladino, le abbiamo regalato un'altra PlayStation VR per il suo salotto Vuole anche dei giochi? Certo, sì, li voglio, le diamo anche ai giochi Cazzo che ti frega? Cioè, comunque, le cose noi ce le compriamo Esattamente come compreremo il prodotto di cui vogliamo parlarvi oggi Slap 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 And Beans Allora, questo è un gioco che si ispira a due, forse, i nostri eroi infantili e non Che abbiamo sempre avuto Mao Zedong Stiamo parlando ovviamente di Terence Hill e Bud Spencer Quando eravamo piccini, per forza di cose dovevi guardare i film di questi due Perché comunque in televisione davano quello e poi colpo grosso a una certa ora E quelle sono le cose che ci vedevamo fisse Poi possiamo parlare anche dei cartoni animati che c'erano anche quelli Però solitamente, insomma, aspettavi le undici e mezza che iniziava colpo grosso E che cosa facevi fino alle undici? Te lo menavi forte, forte No, ti guardavi Bud Spencer e Terence Hill che menavano forte, forte Erano praticamente gli eroi di noi ragazzini perché Innanzitutto perché erano amici, amici, amici Nel senso si odiavano tantissimo all'inizio di ogni film Poi diventavano molto amici sul finale Era questo il trascorso E soprattutto ci piacevano perché picchiavano i cattivi E li picchiavano in maniera non violenta Non senso Non violenta perché alla fine era talmente caricaturale la situazione Che dice, sì, vabbè, ma Cioè che forza Erano i supereroi veri in qualche modo Perché non avevano superpoteri Però era quasi se ne avessero Cioè picchiavano da soli In due, picchiavano 40 persone E non è che le picchiavano con un mitra Con una mazza chiodata A schiaffi A pugnismo alla testa E le modalità di combattimento erano sempre molto interessanti C'era Bud Spencer che andava di pesantezza Essendo un omone Andava di mano aperta qua dietro al collo Psta Con degli effetti sonori meravigliosi Terence Hill era il più astuto e veloce Quindi spesso usava delle bacchette di legno per percuotere le mani Era anche fastidioso come combattimento Perché era lunghissimo Dava un sacco di colpetti in giro Insomma lo sfiancava il povero disgraziato E noi morivamo dalle risate In Germania Bud Spencer Terence Hill Ma soprattutto Bud Spencer È come padre Pio in Italia Cioè è È un santo Se tu vai da una ragazza tedesca, no? Vuoi fare colpo? Non è che devi sfodere al fisico Non devi Devi sfodere a una maglietta con Bud Spencer Quella ti tromba là dove sei Perché lì è una moneta di scambio culturale Dici sono italiano Ho stretto la mano a Bud Spencer Quella te la taglia la mano Se la appende al collo come un ciondolo Vabbè quello che vi stiamo cercando di dire È che c'è questo gruppo di ragazzi Pensiamo di aver provato la demo di questo gioco Sì l'abbiamo provata Di sì Che stanno creando il gioco di Terence Hill e Bud Spencer Un gioco che credo non sia manco ufficiale Sarà un official quasi sicuramente Però che ci ricatapulta In quell'età in cui non ci avevamo pensieri Non ci avevamo le tasse da pagare Non ci avevamo i cazzi che ci stanno adesso E che c'hai sempre piantati qua in testa E ci crediamo Ci vogliamo credere Che il team ci sembra Ci sembra buono Le animazioni sono fatte da Dio Cioè veramente Si stanno già facendo un discreto Una grafica retro Ma non del tipo retro Del tipo Oddio quanto è vecchia Guarda i pixeloni No È una grafica retro Curata come se fosse un gioco di oggi però E che è molto bello Perché non vogliono fare Gli intellettoloidi a vuoto Non vogliono fare Guarda qui bello È tutto pixel Non si capisce un cazzo Guarda com'è retro Le animazioni sono belle I personaggi sono realizzati bene È veramente bellino il gioco Noi nella demo avevamo fatto caso ad alcuni problemi Ma è una demo di un anno e mezzo fa E il gioco è destinato ad uscire nel 2017 Quindi c'è ancora molto tempo Ci stanno lavorando A noi sembra veramente carino Così come ci sembra carino il trailer Ve lo linkiamo in descrizione O vi mettiamo qualche immagine qui Quindi Mi sembra che la donazione minima per il Kickstarter Sia 15 dollari 15 euro Non ho pensato Ma penso che si possano fare donazioni Di tutte le categorie A partire da 5 euro Solite Ci sono dei bei premi Ci sono dei bei premi Assolutamente Che vanno Vanno visti E Anche se Sembrano un sacco di soldi 130.000 euro Però noi che stiamo in ballo Con un crowdfunding Attualmente Sappiamo Uno Le tasse che ci stanno dietro E grazie a Dio Credo E spero per loro Che loro Siano siti In Germania Quindi paghino meno tasse La produzione dovrebbe essere Italo-tedesca Perché ci sono nomi italiani E nomi tedeschi Speriamo che abbiano sede in Germania Perché così Di quei soldi che raccolgono Possono usarne la maggior parte Non come noi in Italia Perché Quando raccogliete Per un crowdfunding Comunque siano donazioni Sono tassate le donazioni in Italia Quindi Tutto quello che ci avete donato Per YouTube money Magari fossero 35.000 euro Che ci prendiamo E li possiamo utilizzare No Avete pagato Le auto blu Avete pagato Un sacco di puttanate A gente che non farà YouTube money Sappiatelo E che non si prenderà Neanche la briga Di fare Che ne so Un minimo di Di riforme serie Per la scuola Per dire Quindi A noi dispiace Dispiace tantissimo Perché 35.000 euro Sono tanti E vengono tutti Dalle vostre tasche E non verranno utilizzati Tutti per YouTube money Sì E quindi Sappiamo Diciamo Le problematiche Che ci sono I problemi Che possono nascere In corso d'opera Perché c'è sempre qualcosa Che va storto Purtroppo E quindi I costi poi Che vanno a Sollevarsi Eccetera Eccetera Però Per un gioco Di questo tipo Con un gameplay Che abbiamo visto Che potrà essere Molto vario Perché passa Dal platform A altre cose Che andate a vedere Poi Che serve pure Per fare un po' Di mistero Sul Sul crowdfunding E magari farvelo Parvelo piacere Se ci credete Se avete avuto Anche A che fare Con i film Di Bud Spencer E Terence Hill Secondo me È un atto Di fede Che potete fare Noi lo faremo Di sicuro Non penso Donerò 5.000 dollari 5.000 euro Per questa cosa Però la mia piccola donazione La farò E anche perché La donazione Da 15 euro Ti Praticamente Ti dà il gioco Come se avessi acquistato Il gioco Sostanzialmente Però ho provato già Il gioco Mi era piaciuto Sicuramente si giocherà In coppia In due Tant'è che c'è anche Un mini cabinato Che si può avere Per questo gioco Con due stick E due bursantiere Insomma Una cosa che a noi Fa piacere Esista E mi dispiace solo Che Bud non lo può vedere Il gioco Mi dispiace veramente tanto